Io sono nato in Romania e sono cresciuto in Italia. Quando ero piccolo io non c'erano tanti bambini stranieri a scuola. Cioè iniziavamo ad esserci, ma diciamo che c'era uno di noi in rappresentanza di ogni zona del mondo. Cioè nella mia scuola c'era il nero della scuola e anche la nera della scuola ovviamente, come gli Oscar, attore, attrice, protagonista. C'era il marocchino sicuramente, la marocchina, anche se erano tunisini, vabbè. C'era un cinese forse in rappresentanza dell'Asia. E poi c'ero io che non rappresentavo niente perché ero bianco e non particolarmente balcanico di aspetto, all'epoca almeno. Adesso più passano gli anni più mi sto trasformando in uno slavo in tuta Adidas appostato davanti alla Lidl. Io non ho subito tantissimi episodi di razzismo nella mia infanzia, il giusto, quelli che ci vogliono a livello educativo. Il razzismo l'ho subito principalmente alle medie, però bisogna dire che alle medie chiunque viene bullizzato per qualcosa, quindi non è che me la sono legata al dito. Non mi ricordo neanche chi è stato a compiere questi gesti di razzismo nei miei confronti. Tranne, vabbè, se vogliamo. Mattia Grandi da Campolongo in provincia di Vicenza. Mattia non era molto fantasioso, diceva le solite cose, torna in Romania, rumeno di merda, molto basic, molto basic. A un certo punto a Mattia viene un problema dermatologico, per cui alle medie perde tutti i capelli. Quindi io sono lì che subisco queste offese razziste, finché un giorno mi fermo e dico Aspetta un attimo, però, il senso, questo bambino è pelato, cioè ho anch'io una carta che posso giocarmi, no? Per rispondere. E ho detto una cosa che non avrei dovuto dire, gli ho risposto, belli capelli. Ovviamente lui si è incazzato, lui era più grande di me, di un anno. Ha iniziato a picchiarmi, si è creato il classico cerchio intorno a noi, di ragazzini che guardano la rissa. Caratteristica della mia scuola, oltre ad essere in pochi, ad essere stranieri, c'era anche zero solidarietà tra di noi. Ognuno era per i cazzi suoi, sopravvivenza, era una giungla. Infatti io mi ricordo che le stavo prendendo e a un certo punto guardo nel perimetro del cerchio e c'era Esther, la bambina ganese, che mi guardava come per dirmi «Vecchio, è la prima volta per te questo mese, arrangiati, capito?». In realtà, la maggior parte delle volte, di fronte alle offese razziste, non dicevamo niente. Anzi, facevamo finta ci facessero ridere perché tutti gli altri intorno a noi ridevano. Fingevamo di stare al gioco. Perché, crescendo come straniero in Italia, sviluppi un po' quella sensazione di essere un ospite, quindi di non dover mai disturbare, mai dire una parola di troppo. Un esempio, un altro esempio, il mio primo giorno di scuola, le maestre avevano deciso che il mio nome, Orea, fosse troppo difficile da pronunciare e che quindi da quel momento in poi io mi sarei chiamato Orazio. Adesso, se tu hai un cuore, dovresti sapere che nessun bambino nel ventunesimo secolo vuole chiamarsi Orazio. E i miei genitori erano lì presenti e non si sono posti a questo battesimo improvvisato. Non hanno osato contraddire le maestre. Ok, va bene. Se la maestra ha detto così, sicuramente un nome occidentale aiuterà l'integrazione di nostro figlio. Se funziona per il barista cinese che si fa chiamare Mauro. Non vedo perché non dovrebbe funzionare per il piccolo Orazio. I bambini invece mi prendevano in giro per questo nome. Mi dicevano Orazio Topazio, Orazio Che Strazio, Orazio Il Pagliaccio Che Viene Dallo Spazio, Orazio Ti Ringrazio Per Questa Fellazio. Io dicevo, ma Fellazio, siamo alle medie, che parole conosci? Io parlo spesso con ragazzi e ragazzi che come me sono nati da un'altra parte ma sono cresciuti in Italia e parliamo di questo, di esserci sentiti come degli ospiti e a tutti sono rimaste dentro due cose in particolare. Il fatto di non avere un paese da poter chiamare casa e tanta rabbia e per esperienza posso dire che sono due cose di cui i bambini possono fare tranquillamente a meno. Grazie.